Un altro consigliere comunale di Gela nel mirino degli incendiari. La notte tra sabato e domenica, a seguito di un incendio, è andata distrutta. La smart del consigliere comunale del Movimento diventerà bellissima, Gabriele Pellegrino. La city car era parcheggiata in via Ettore Romagnoli. Il rogo si è registrato intorno alle 3 di notte e sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Danneggiato anche un pulmino che era parcheggiato accanto alla vettura. Nelle ultime settimane, a causa dell'escalation di attentati incendiari a Gela, dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica indetto dal prefetto di Caltanissetta, sono stati avviati controlli straordinari da parte di carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili urbani. Nei giorni scorsi, i gnoti hanno anche incendiato la Jeep Renegade della consigliera comunale indipendente Alessandra Ascia e dell'esponente del movimento regionale diventerà bellissima, Anna Comandatore.